Musica Milano Pavia News edizione Pavia, buonasera, ben ritrovati, andiamo a vedere insieme i titoli del nostro sommario. La soprintendenza mette un freno al progetto della logistica di Casa Tisma. In un documento viene segnalato alla provincia come il progetto presenti una serie di criticità per il contesto storico e paesaggistico. Il Consiglio regionale approva la mozione del centro-destra che chiede l'abolizione del coprifuoco. Nel testo si chiede il ritorno delle libertà personali sancite dalla Costituzione. A Voghera partirà un intervento da 200.000 euro per sistemare l'alveo del torrente Staffora. I lavori saranno realizzati da Aipo, tra il ponte di Via Piacenza e quello della frazione Oriolo. Il Comune di Vigevano lancia il progetto del blog dei Giovani, uno spazio dove gli studenti potranno pubblicare foto e video. Al blog sarà abbinato anche un concorso per la grafica di Orientiamoci. Si intitola Ricominciamo da noi il video promozionale del Comune di Pavia per sostenere il commercio di vicinato. La Giunta ha messo in campo anche misure economiche per i commercianti. Questi i titoli della giornata. Prima di iniziare con i nostri servizi, una notizia di cronaca. C'è stato purtroppo un drammatico incidente mortale nel pomeriggio, poco prima delle 4, sulla statale 235 tra Avigalfo e Copiano nel Pavese. Si sono scontrati frontalmente nei pressi di una curva, un'autocisterna e un furgone. L'autista del furgone, come dicevamo, è purtroppo morto sul colpo. Il camionista risulta invece gravemente ferito. Sul posto sono arrivate due ambulanze e l'automedica del 118, assieme ai vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il corpo dell'autista del furgone dall'abitacolo. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che dovranno fare luce sulla dinamica di questo incidente, anche se non si esclude ovviamente una disattenzione o una manovra sbagliata da parte di uno dei due conducenti. Per il pomeriggio sono state segnalate code in entrambe le direzioni, sia verso Lodi che verso Pavia. Ci spostiamo in Oltrepò, dove la soprintendenza potrebbe mettere un freno a quello che è il progetto della logistica di Casatisma, di cui abbiamo parlato a lungo nelle scorse settimane, in un documento che in qualche modo richiama anche quelle che erano le obiezioni del consigliere dei 5 Stelle Simone Verni. Si segnalano una serie di criticità sotto il profilo storico e paesaggistico. Sentiamo Paolo Barli. La soprintendenza mette un freno al progetto della logistica di Casatisma. In un documento firmato dal soprintendente Giuseppe Stolfi viene segnalato alla provincia di Pavia come il progetto presente una serie di criticità per il contesto storico e paesaggistico. La richiesta finale è di istituire una commissione per la valutazione di impatto ambientale, un passaggio che i proponenti del progetto avrebbero voluto evitare. La soprintendenza parla di altissima criticità causata dal nuovo comparto logistico, connessa alla sua diretta vicinanza a Palazzo Mezzabarba, bene immobile ed elevato interesse storico-architettonico sottoposto a tutela monumentale. Palazzo Mezzabarba, come da sempre sostenuto dal comitato no logistica, finirebbe di fatto circondato dai capannoni. La soprintendenza pone inoltre problemi paesaggistici, connessi alla tutela di un corridoio ecologico costituito dal cavo La Cerca. La sua compromissione provocherebbe a catena il deturpamento del paesaggio affacciato sulla ex statale 35. Infine, conclude la soprintendenza, le cartografie segnalano, a circa 400 metri di distanza dall'impianto in progetto e sempre all'interno del territorio comunale, la presenza di un areale di rischio archeologico. Un quadro, insomma, decisamente sfavorevole al progetto. L'arrivo del parere della soprintendenza è stato salutato con soddisfazione dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Simone Verni, in quale aveva mandato una lettera all'ente elencando alcune considerazioni che sono state poi di fatto condivise nel documento ufficiale inviato alla provincia. Ringrazio la soprintendenza per la sensibilità dimostrata e le preoccupazioni condivise, ha detto Verni, sottolineando l'importanza della tutela del territorio e dei beni architettonici. Restiamo in oltre podo, dove nei prossimi giorni partirà un intervento da circa 200 mila euro per sistemare l'alveo del torrente Staffora a Voghera, vicino alla frazione Oriolo, un intervento che è stato reso possibile anche grazie all'interessamento dell'onorevole della Lega Elena Lucchini. Circa 200 mila euro per intervenire nel tratto compreso tra il ponte di Via Piacenza e quello della frazione Oriola Voghera. Il tema del dissesto in oltrepo trova un'importante risposta grazie all'interessamento dell'onorevole del carroccio Elena Lucchini, che si è fatta portavoce delle richieste dei cittadini ed il contributo fondamentale di AIPO. Questa nostra richiesta che mi era stata portata avanti da parte dei cittadini vogheresi, ho segnalato questa situazione ad AIPO in data 9 aprile, ho manifestato questo importante problema e anche la necessità di un intervento urgente. Se siamo qui oggi è chiaro e ovvio che la risposta è stata più che positiva, è una risposta molto tempestiva e quindi verrà realizzato un intervento importante da parte di AIPO. Partiranno i lavori, posso dirlo, la settimana prossima. È un lavoro veramente urgente perché parliamo di una cifra importante di circa 200 mila euro. Partirà dal ponte di Via Piacenza e arriverà fino al ponte della frazione di Oriolo. Quindi tratta un tratto molto importante, molto lungo, che attraversa il comune e la città di Bochera. I lavori, come detto, inizieranno la prossima settimana. Si tratterà della manutenzione della vegetazione, recupero di ciò che è crollato e di una pulizia generale. L'importanza di questo intervento è data dal fatto che, siccome appena valle del tratto in confluenza del ponte di Via Piacenza, la sezione si restringe molto ed è quindi importante tenere una sezione ben manutenuta. Questo perché? Perché in caso di piena siamo più tranquilli e il rischio di allagamenti localizzati e diffusi è sicuramente inferiore. È importante aggiungere che non è il primo intervento perché è un intervento che è in continuità con quanto già realizzato dai colleghi dell'ufficio di Pavia l'anno scorso, che però si erano fermati al ponte in frazione Oriolo. Le risorse impegnate sono state sicuramente importanti perché sono due interventi per un totale di quasi 400 mila euro. Ma non sarà l'unico intervento in cantiere. Grazie ad uno studio di fattibilità in fase di lavorazione si potrà procedere ad una sistemazione definitiva. In questo tratto non sarà l'unico intervento perché adesso abbiamo uno studio di fattibilità che è stato presentato per il finanziamento al Ministero, sul quale, sempre con l'onorevole Lucchini, perché la tematica, l'ambiente è di suo interesse, sapete molto bene che è capogruppo in Commissione Ambiente a Roma, e quindi c'è questa proposta per una sistemazione definitiva di quel tratto perché appena valle di Voghera le esondazioni sono un problema storico e un problema che si ripete negli anni al quale va data una soluzione definitiva, sempre non dimenticandoci però di questi interventi manutentivi che nel transitorio ci permettono di avere un rischio sicuramente più accettabile. Cambiamo decisamente argomento, è stata approvata in Consiglio regionale una mozione che impegna la Giunta e il Presidente Fontana per farsi portavoce con il Governo per eliminare in sostanza il coprifuoco, una delle misure più osteggiate in queste settimane tra quelle adottate dal Governo proprio per contenere la curva dei contagi per il centro-destra, però adesso è il momento della ripartenza. La questione del coprifuoco torna al centro del dibattito in Consiglio regionale martedì 4 maggio. È stata approvata una mozione presentata dalla Lega e da Fratelli d'Italia che ne chiede proprio l'abolizione. Con il documento si impegna così Giunta e Presidente ad attivarsi attraverso la conferenza Stato-Regioni per l'eliminazione del coprifuoco per ripristinare, si legge nel testo, una normalità senza rischi, senza limitazioni e al ritorno delle libertà personali sancite dalla Costituzione. Ieri in Consiglio regionale della Lombardia abbiamo approvato un'importante mozione unitaria del centro-destra per dire basta al coprifuoco. Chiediamo che il Governo superi il prima possibile questa misura che sta limitando eccessivamente, ormai da troppo tempo, la vita di tutti i cittadini italiani e lombardi. Il nostro non è un atto di irresponsabilità, come le opposizioni hanno criticato, perché non chiediamo un'apertura indiscriminata di tutte le attività, chiediamo comunque di seguire l'andamento epidemiologico, ma ormai è arrivato il momento di pensare alla ripartenza e crediamo che il coprifuoco non abbia oggi nessuna utilità e nessuna vera efficacia. Del resto la Lega al Governo sta portando avanti da molto tempo questa battaglia all'interno della maggioranza e sta chiedendo a Draghi di spingere con coraggio sull'acceleratore del superamento appunto della misura del coprifuoco. La mozione ha avuto il via libera con 40 voti favorevoli della maggioranza, 15 contrari dell'opposizione e con il Movimento 5 Stelle che invece non ha partecipato al voto. Tra i contrari il capogruppo PD in aula Fabio Pizzul, secondo cui invece la mozione approvata non coglie la complessità della situazione attuale in cui la diffusione del contagio è ancora elevata e per cui il coprifuoco è un necessario deterrente che può fare la differenza nella responsabilizzazione dei cittadini. Andiamo adesso a dare un'occhiata sulla situazione sanitaria e alla situazione dei vaccini in Lombardia come sempre con le nostre nuove grafiche. Lo vedete per quanto riguarda le vaccinazioni, sono salite al circa 26-25% in Italia, 26,89%. In Lombardia le vaccinazioni dei cittadini con la prima dose rimangono abbastanza basse le percentuali per chi ha ricevuto entrambe le dosi, siamo sotto l'11%, ovviamente rimangono alte ancora le percentuali di chi in Italia e in Lombardia non è stato ancora vaccinato, siamo al 64% in Lombardia, poco meno del 64% in Italia. Andiamo a dare un'occhiata adesso alle dosi somministrate ieri, in tutta Italia abbiamo superato quota 400 mila, in Lombardia siamo oltre quota 85 mila, sono numeri decisamente alti si può dire, ma lo diciamo ormai da diversi giorni che la campagna vaccinale adesso è entrata veramente nel vivo visti questi numeri. I nuovi positivi ogni 100 mila abitanti stanno calando lentamente ma in maniera stabile, lo vedete in Italia siamo a 130, ogni 100 mila abitanti sono meno, in Lombardia 115, ancora meno a Milano 103, 97 invece nuovi positivi ogni 100 mila abitanti, questi sono dati che fanno ben sperare ovviamente per le prossime settimane, speriamo che il trend si mantenga così. Noi adesso parlando di sanità torniamo a parlare del caso dei tre comuni della Lomellina rimasti senza medico, era un tema di cui abbiamo parlato a lungo nei giorni scorsi, dopo la richiesta proprio dei sindaci ad ATS di spostare un medico di un altro ambito proprio in questi comuni è arrivata la risposta ed è stato purtroppo un no da parte di ATS, però i sindaci non si arrendono, adesso stanno studiando come proseguire la loro battaglia. E' andata a finire male la vicenda dei tre paesi della bassa Lomellina rimasti senza medico, la professionista che visitava negli ambulatori comunali di Suardi, Gambarana e Pieve del Cairo era andata in pensione senza essere sostituita, i pazienti erano stati invitati ad andare a Lomello, 15 chilometri di distanza, qualcuno però è riuscito a farsi mettere in lista presso l'unico medico rimasto a Pieve del Cairo, ormai oberato di assistiti. I sindaci dei tre paesi avrebbero trovato un sostituto ma questi è di Valle Lomellina, burocraticamente di un altro ambito geografico, serviva una deroga da parte di Regione e ATS. Dopo l'appello ai nostri microfoni qualcosa sembrava essersi mosso, invece negli scorsi giorni è arrivato il no definitivo. I sindaci però non si vogliono arrendere, nelle scorse ore si sono riuniti per decidere come proseguire la battaglia. Se ne sono liberati di questo problema dicendoci di no. È una cosa tremenda questa perché non solo loro ci dicono di no a un medico che abbiamo trovato noi, che già la cosa è incredibile, ma non ce l'hanno fornito neanche loro, per cui il primo problema non è che non consentano ad utilizzare questo dottore, il primo problema è che hanno dato un loro dottore in pensione e non ci hanno neanche preso in considerazione. Siamo ancora con forza a richiedere la possibilità di una gestione sensata di questa vicenda che ci pone in grossissima difficoltà e pone in grossissima difficoltà un territorio che già subisce diverse problematiche, lo scotto di un isolamento e ad oggi anche lo scotto di una logica sanitaria quantomeno bizzarra. Si chiede veramente da chi ha la competenza di poter farci questo regalo, perché è un diritto che hanno, è un diritto di avere un medico di base sul territorio, di non spostarsi come fanno milioni di altri cittadini che hanno questo medico che fa un ambulatorio nel territorio, che possono contare su questa assistenza di base. Nella vicenda è stato coinvolto anche il sindaco di Mede, Giorgio Guardamagna, rappresentante di zona nel Consiglio di rappresentanza dei sindaci di ATS, in quale sottolinea come il territorio della Lomellina avesse già perso ultimamente anche il pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Lasciare i cittadini, soprattutto anziani, senza l'assistenza medica è veramente una cosa che nel 2021 è inconcepibile, che fa parte però di una situazione sanitaria della Lomellina piuttosto grave e faccio anche riferimento all'ospedale di Mede, dove in questi ultimi anni si sono impoveriti i servizi, a chiusura del pronto soccorso, anche degli ambulatori che non funzionano come dovrebbero. Quindi questo fa parte di un disegno che purtroppo ha impoverito il nostro territorio. A Pavia è partita da lunedì la nuova modalità di raccolta differenziata notturna, per il momento modalità che è partita solo nelle periferie, non nel centro storico e in borgo. Una sperimentazione, se così vogliamo chiamarla, che riguarda 50.000 persone. Non sono cambiati i giorni del calendario, ma ovviamente sono cambiati gli orari di esposizione dei rifiuti. Come per annunciato nelle scorse settimane da Comune di Pavia e da SM, è partito ufficialmente il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti in alcune zone della città. Da lunedì 3 maggio è iniziata infatti la nuova modalità notturna, una misura che, almeno inizialmente, riguarderà circa 50.000 abitanti del capoluogo. Una piccola rivoluzione che l'azienda di Via Donegani ha voluto avviare nei quartieri periferici, per testare il servizio, riducendo al tempo stesso possibili problematiche. In centro storico, dunque, si andrà avanti per ora con il solito calendario, che prevede il ritiro nel corso della mattinata. In periferia, invece, da lunedì 3 maggio, la spazzatura deve essere esposta dopo le 18 e dentro le 22 del giorno individuato dal calendario di raccolta di rifiuti di ASM. In termini pratici, restano del tutto invariati i giorni di ritiro per le diverse tipologie. La novità riguarda, invece, l'esposizione, non più al mattino, ma nel corso della serata, all'interno della finestra di quattro ore prevista da Via Donegani. Il contenitore, inoltre, una volta svuotato, dovrà essere ritirato il prima possibile, con il termine ultimo fissato alle 9 del mattino del giorno successivo. Così come anticipato anche dall'amministrazione del Mezzabarba nelle settimane di avvicinamento, l'obiettivo è quello di migliorare nel suo complesso il decoro della città e di snellire allo stesso tempo il flusso del traffico nelle ore più difficili. I residenti, interessati dal nuovo servizio, sono stati informati con la distribuzione di un opuscolo che spiega nel dettaglio la nuova modalità di raccolta dei rifiuti. Anche l'assessore regionale Fabio Rolfi appoggia la proposta di una giornata nazionale dell'agricoltura, un modo ovviamente per essere riconoscenti a chi lavora tutti i giorni in campagna, nelle campagne insomma per produrre cibo, ma anche, come ha spiegato lo stesso Rolfi, un modo per valorizzare il made in Italy e combattere le fake news che spesso colpiscono proprio il settore. La produzione agricola in Lombardia vale 7,8 miliardi di euro, prima regione in Italia, e tra le province lombarde, Pavia è quella con più aziende attive, oltre 6.000. I numeri hanno spinto l'assessore regionale Fabio Rolfi ad appoggiare la proposta di istituire una giornata nazionale dell'agricoltura per riconoscere la figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio. È necessario dare al settore la giusta rilevanza, sottolinea Rolfi, valorizzare il made in Italy e contrastare le fake news, di cui sono spesso vittime le aziende. Dobbiamo contrastare con i dati scientifici, conclude l'assessore, una certa visione agrofobica che sta prendendo piede a causa di una mancanza di corretta informazione. La provincia di Pavia produce il 9% dei prodotti agricoli lombardi, dietro solo a realtà come Brescia, Mantova e Cremona. Bene la proposta della Lega di Matteo Salvini di istituire la giornata nazionale dell'agricoltura e dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio. Una proposta giusta che istituisce all'agricoltura un ruolo centrale, perché è quell'attività umana che, producendo il cibo, che è la vita, è la prima attività che cura il territorio, lo preserva, lo coltiva e lo difende, lo custodisce dagli utilizzi impropri e dall'abbandono. E quindi lo difende anche dal dissesto idrogeologico, pensiamo al ruolo prezioso dell'agricoltore in montagna. Quindi serve un riconoscimento, serve che la società moderna si riconcigli con l'attività primaria dei produttori di cibo, degli agricoltori, e ristruisca a questa attività primaria il ruolo centrale che ha nella vita di tutti i giorni. Parliamo d'altro. Il Comune di Vigevano ha lanciato il progetto del blog dei Giovani Uno Spazio, riservato agli studenti proprio delle scuole vigevanesi, per esprimersi in totale libertà. Ogni forma di espressione sarà ammessa e non è prevista alcuna censura, se non ovviamente quelle evidenti e necessarie. Sentiamo Paolo Barni. In questo anno di restrizioni, i giovani, come dimostrato anche in un sondaggio effettuato fra gli studenti e delle scuole vigevanesi, hanno ricercato nel web quegli spazi di socialità ed espressione a loro preclusi nella vita reale, con tutti i rischi del caso. Il settore politiche giovanili del Comune di Vigevano ha quindi voluto dare un'opportunità diversa, sempre sfruttando la rete. Si sta creando il blog dei giovani, una finestra da cui gli studenti delle scuole elementari e medie potranno pubblicare video ed elaborati di natura artistica. Ogni forma di espressione sarà ammessa e non ci saranno censure, fatto salvo naturalmente un minimo filtro per evitare la pubblicazione di contenuti offensivi. Abbiamo visto che i nostri ragazzi hanno dei problemi e i problemi sono la mancanza di posti e di capacità di sfogare quello che può essere la loro creatività e la loro, diciamo, giovinezza. Allora abbiamo deciso di creare il blog dei giovani. È una piattaforma del Comune dove i ragazzi possono esprimere la loro creatività in maniera attiva e non passiva, possano caricare filmati di varia natura, umoristico, musicale, fotografie e quant'altro, e ci sono i like e si possono votare in modo tale che possono anche relazionarsi, possono anche fare progetti congiunti. Chi prende più voti a fine anno viene premiato. Al blog dei giovani sarà inoltre abbinato un concorso per rinnovare la grafica di Orientiamoci, il portale comunale dedicato all'orientamento scolastico. Ai ragazzi sarà chiesto di fornire delle proposte anche per migliorare la fruibilità. La soluzione più apprezzata verrà utilizzata nella nuova versione del sito. Attraverso questo blog diamo la facoltà di fare un concorso per rifare la grafica del sito Orientiamoci. Il sito Orientiamoci è il sito dell'offerta didattica che il Comune di Vigevano offre. Siccome è un sito istituzionale, volevamo portarlo a un livello più fruibile per i giovani, quindi i giovani delle scuole, medie inferiori e medie superiori, hanno la facoltà di realizzare la grafica del portale e la migliore verrà utilizzata. Si chiama Ricominciamo da noi il video promozionale creato e realizzato dalla Comune di Pavia con un noto videomaker pavese per supportare il commercio di vicinato, il commercio ovviamente del territorio. Assieme a questo video promozionale il Comune ha investito anche dei fondi per aiutare economicamente i commercianti. Un video promozionale per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla possibilità di sostenere il commercio di vicinato in questo difficile periodo di ripartenza. Ricominciamo da noi è il titolo scelto dal Mezza Barba per il video realizzato grazie alla collaborazione tra l'assessorato al commercio di Pavia e il professionista Marco Rognoni. Sì, finalmente usciamo con questo video. Il commercio di vicinato è una grande ricchezza per Pavia. Questa amministrazione ne riconosce da sempre il valore che non è solo quello economico ma è soprattutto una funzione sociale. I nostri luoghi, i nostri negozi rappresentano veramente il primo presidio sul territorio contro il degrado, contro l'abbandono. e quindi sono importanti i luoghi di relazione sociale per combattere le solitudini, l'abbandono e promuovere il territorio. Con questo video vogliamo non solo dare un ulteriore sostegno alle attività commerciali ma vogliamo coinvolgere la popolazione in modo che sia partecipe di questa tanto attesa ripresa che speriamo arrivi presto. Pavia è una bella città, una città storica con tanti negozi e di conseguenza è l'invito naturalmente a far sì che i nostri concittadini naturalmente anche coloro che arrivano da fuori arrivino a visitare la nostra città e contestualmente naturalmente possono usufruire dei numerosi negozi che ci sono all'interno del nostro centro storico e anche fuori. quindi questo filmato che è un bel filmato che rappresenta e dà un'indicazione per quanto riguarda il periodo che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo è un momento di speranza per quanto riguarda il ricominciare in modo tranquillo e felice per quanto riguarda la nostra città. Sensibilizzazione non solo, diversi sono infatti le misure messe in campo dal mezzabarba per aiutare il commercio, dagli sgravi fiscali alla possibilità di utilizzare gratuitamente marce a piedi e strade per posizionare i tavolini di bar e ristoranti. Noi abbiamo tantissimi negozi, tantissime attività sul nostro territorio che hanno sofferto e stanno soffrendo ancora per questa situazione. I più colpiti lo sappiamo, è tutto il mondo della ristorazione, comunque dello sport, dell'arte, ma anche poi la ricaduta su tutti i negozi che non hanno potuto svolgere la loro attività a pieno come erano abituati a fare. Quindi è vero, l'unione fa la forza come si suol dire e cercare di contribuire a questa ripartenza tutti insieme ma soprattutto per evitare le chiusure, evitare l'abbandono dei nostri spazi che dobbiamo tornare a riempire in maniera adeguata tutti quanti riprendendoci la nostra città, non facendo spegnere le luci. È tutto per questa edizione, io vi ricordo l'appuntamento come sempre del mercoledì sera con Review. Grazie per averci seguito. Una buona serata a tutti. Grazie a tutti.